Ciao a tutti, volevo dirvi che sabato uscirà un nuovo video con tanti belli ritrovamenti insieme al nostro amico Mirko, che saluto e ringrazio anche perché grazie a lui che ci ha chiamato e abbiamo fatto la bella spazzolata insieme a lui in compagnia. Poi mio padre anche farà un ritrovamento, il suo primo ritrovamento, vedrete, tanti mi piace per lui e anche a Mirko che con il suo gare 350 quel giorno ha fatto il macello. Quindi un bel video, poi a noi piace condividere questi video emozionanti, belli, non vedo ora che lo vedete anche voi. E poi io sto ricevendo un po' di commenti che mi dicono stai a casa, perché stai a casa insomma, per il fatto di questo coronavirus. L'ho detto parecchie volte, io i video sono programmati, cioè io ho tutti programmati, sono video che già abbiamo fatto mesi fa e io li programmo. L'ho detto anche altre volte, noi per adesso non usciamo, solo mio padre va a lavorare, se no io a casa. E niente, grazie a tutti di questa piccola visione, a sabato, poi ogni sabato usciranno altri video anche delle campagne. Alla prossima e ciao a tutti!